Un consorzio chiamato Gran Sasso Pratiditivo che serve a salvare la Gran Sasso Terramano S.p.A. e rilanciare così gli impianti di risalita di Pratiditivo. L'operazione non è nata potenzialmente proprio per gli impianti, è nata per la promozione, sia con servizi e sia con strutture. Oggi però c'è un problema, c'è quello degli impianti. L'affidamento degli impianti è scaduto alla Sangritana e quindi c'è un buco. Adesso bisognerà colmare questo buco. Non sappiamo se sarà il consorzio a assumersi quest'onere, però comunque il consorzio si è reso disponibile da subito. Ha detto siamo disponibili comunque anche alla gestione, vediamo adesso quali saranno i termini della situazione. È un elemento in più a favore della cooperazione che si sta mettendo in campo con gli operatori, con la Gran Sasso della Mana, con tutti gli attori della montagna per salvare questa società e per dare un futuro e un programma turistico alla montagna. Lo start-up già quest'estate e poi il lancio nella stagione invernale 2013-2014. Per quanto riguarda i servizi sicuramente quest'estate. Per quanto riguarda gli impianti bisogna vedere adesso quali saranno anche le problematiche che avrà la Gran Sasso della Mana, perché noi ovviamente possiamo mettere a nostra disponibilità, ma poi bisogna vedere anche dall'altra parte quali sono le richieste, quali sono le problematiche a cui si deve andare incontro. Un bel programma di investimenti e di iniziative per poter creare un piano di sviluppo con un programma quasi quindicinale per il funzionamento degli impianti.